Buongiorno, sono Giovanni Branca-Leon Spadon, coordinatore e docente del corso di alta formazione per DPO, protezione dati personali in ambito sanitario e per la pubblica amministrazione, organizzato dalla Cafoscari Challenge School. Il corso si struttura in due fasi. La fase teorica riguarderà indubbiamente il GDPR, il decreto legislativo 101 del 2018 e un'analisi del CAD, il codice dell'amministrazione digitale. La fase pratica, molto interessante, si strutturerà nella forma del workshop, a cui tutti gli iscritti saranno chiamati a partecipare a laboratori operativi. Si sveluggeranno delle attività, quali la valutazione e l'impatto del rischio, oppure si proverà a iscrivere assieme il registro di un trattamento. Inoltre, nella fase pratica e operativa verranno rilasciati dei modelli e degli strumenti, anche software, per agevolare l'attività del DPO. Per qualsiasi ulteriore informazione potete consultare il sito di Cafoscari Challenge School. Noi ci rivediamo in aula.